Carissimi utenti ci troviamo qui a Porto Cannone, la società di calcio che davvero sta dando grosso entusiasmo non è soltanto una sorpresa perché è un progetto che riparte praticamente già dallo scorso campionato nelle immagini la squadra si sta riscaldando, 6 punti in classifica in prima posizione, leader di questo girone campionato strepitoso e adesso anche oggi se vince potrebbe diventare leader di questo girone a 9 punti siamo qui con i massimi dirigenti della società sportiva del Porto Cannone, una squadra che continua a destare l'attenzione del pubblico ma non solo Ciao a tutti, buon pomeriggio, siamo qui la società AS di Porto Cannone 1993 siamo lieti di ospitare la Fiamma Folgore oggi qui a Porto Cannone sperando di poter vincere questa partita perché la società ci sta mettendo tutto l'impegno con un presidente esplosivo, il nostro Adamo Musacchio con tutta la società che si dà l'impegno di portare avanti tutto lo sport a Porto Cannone fortunatamente siamo in un'ottima posizione di classifica e speriamo sempre nel meglio Ecco c'è grande entusiasmo, ci sarà oggi massima partecipazione con questa bella giornata? Oggi per fortuna abbiamo coinvolto dai ragazzi più piccoli alle famiglie di Porto Cannone perché il nostro è comunque un paese non molto grande però avremo tanta partecipazione anche con qualche sorpresa coreografica da parte dei più giovani Ecco bene, diciamo che questa vittoria sta galvanizzando tutto lo spogliatoio e quindi in realtà sta mettendo in mostra l'igualità della squadra di calcio vostro Allora sì, si sono riavvicinati tanti ragazzi di Porto Cannone che avevano magari un po' abbandonato il paese per giocare altrove ma con questo entusiasmo, con queste vittorie e con questa nuova società con soprattutto anche il nuovo mister che è un ragazzo di Porto Cannone è giovanissimo e diciamo forse ha le prime esperienze e comunque sta risultando ad alti livelli quindi si sta avvicinando un po' tutto il paese all'intorno di questa squadra e i giocatori hanno anche più entusiasmo a giocare e effettivamente danno massimi risultati Grazie 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 Grazie